La squadra rivelazione a sorpresa del campionato. Partita con l'obiettivo primario di una salvezza tranquilla, sette giornate dal termine della regular season, l'etrusca Samminato si trova meritatamente in testa alla classifica, insieme alla favorita numero uno del girone Omegna e al basket Golfo Piombino, anche se quest'ultima deve recuperare la gara col fanalino di coda Domodossola. Ma c'è di più, visto che mai nelle quattro stagioni di permanenza nella terza serie nazionale i ragazzi di Coach Barsotti avevano conquistato così tante vittorie, 17 su 23, e mai avevano guadagnato il diritto a disputare play-off con un così grande anticipo. I meriti di questa escalation, costruita negli anni, vanno divisi fra la società sana e lungimirante, il tecnico e il suo staff fra i migliori della categoria, i giocatori, un mix eccellente fra più e meno esperti, e il pubblico, visto che il fonte vivo è spesso sold out e ancor più spesso assomiglia a una polveriera. Siamo a tre quarti di campionato disputato, una domanda che non posso non farti è un primo sommario bilancio di questa Credit Agricole Blue Card esaminata. I bilanci si fanno sempre a fine stagione, però credo che sicuramente stiamo godendo del lavoro che abbiamo fatto quest'estate. Noi quest'estate abbiamo cambiato tantissimo, abbiamo cambiato 7 giocatori su 10, abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato tanto. Credo che la società abbia fatto un buon lavoro nel senso che prima di trovare, prima di cercare il giocatore ha cercato l'uomo e adesso stiamo godendo di questi risultati. Questi ragazzi sono fantastici perché al di là di essere dei giocatori sono delle persone eccezionali perché si allenano tantissimo, lavorano tantissimo e soprattutto hanno fatto gruppo, gruppo fra di loro. E questo è il valore aggiunto della Credit Agricole di quest'anno, cioè la squadra è il valore aggiunto di questa squadra che effettivamente sono un gruppo unito, compatto, dove vivono la pallacanestro, la vivono durante la settimana, ma la vivono anche al di là delle partite e degli allenamenti perché sono sempre insieme e questo ci fa un enorme piacere. Ci fa un enorme piacere perché abbiamo scommesso su ragazzi che ci avevano dato delle buonissime impressioni e abbiamo avuto ragione. Perciò questo va ancora più a merito loro, a merito dello staff tecnico perché voglio ricordare che lo staff tecnico con Federico Barzotti e i suoi collaboratori stanno facendo un lavoro direi eccezionale. Perciò felicissimi di essere qui, a questo punto l'appetito viene mangiando, ci piacerebbe fare pre-off in una condizione di classifica idonea per poter poi dopo dire qualcosa anche per il futuro per noi e per San Mignato.